Erano già seguite dalla scuola di appartenenza per alcuni episodi emersi durante l'anno scolastico ma mai avrebbero fatto pensare ad un simile epilogo, anzi pare che nel corso dell'anno avessero dato dimostrazione di un recupero sia scolastico che caratteriale ed invece tutto è venuto fuori appena chiuso un capitolo della loro vita scolastica. C'è amarezza e rabbia nelle parole della preside Emma Tortora che insieme al corpo insegnante e allo sportello psicologico di cui la scuola è dotata da anni aveva messo in campo tutte le energie che l'istituzione scuola può mettere in campo. Una rabbia repressa alla distrazione di altri tasselli importanti quali famiglie e società hanno portato all'inquietante epilogo che ha visto tre ragazzine picchiare selvaggiamente una coetanea fino a rischiare che le accadesse qualcosa di grave. Io non nascondo che vengo da una notte difficile perché chiaramente queste notizie che girano sui media ci hanno fatto riflettere non poco. Sebbene la scuola e le docenti, devo dire, hanno sempre attivato procedure di recupero e di conforto a queste fanciulle meno serene. È inutile dire che insomma siamo gli adulti responsabili. La scuola le attiva tutte. Mi sono posta un problema. Dovremmo farne proprio un college? Cioè tenercele anche a scuola. Quanto la scuola può coinvolgere le famiglie stesse oltre che gli alunni e cercare di affievolire anche delle lacune che si vivono in casa? Allora, la scuola, come ho detto, abbia delle procedure di inclusione ad ampio raggio e poi chiaramente anche le assistenti sociali. Abbiamo, insomma, è molto attiva questo sportello al comune di San Marzano. Qualche atteggiamento bullo già nell'ambito, non proprio in classe, ma fuori dalla classe e perché noi abbiamo un dialogo costante, ma non tanto io come dirigente che ho meno tempo per stare a contatto con tutti gli alunni. I docenti sono molto attenti, molto sensibili e spesso sono loro a stabilire orari e giornate di incontro con le famiglie, chiaramente invitando anche me, per discutere su queste difficoltà, su questo disagio. E ripeto, noi agli atti della scuola abbiamo tutta la documentazione di interventi fatti con dati oggettivi. Il bullismo è un campanello d'allarme. Voi come scuola, in genere, come vi regolate in queste situazioni? Avviate delle segnalazioni? Cosa fate? Sì, sì, le segnalazioni vengono fatte subito, come dicevo, al piano di zona che collabora attivamente con noi. Abbiamo un costante contatto con le assistenti sociali, ma poi ci sfuggono. Ecco, sono ragazzine che magari sono riuscite anche a dare il meglio durante gli esami e poi viene fuori che scopri che, insomma, è bastato poco, che si allontanano dalla scuola per ricominciare questi atteggiamenti violenti. È difficile perché veramente le abbiamo provate tutte. Ripeto, probabilmente dobbiamo cominciare a sognare di avere degli ambienti dove tenerceli fino alla maggior età, questi ragazzi. Questi ragazzini, queste ragazzine vivono in ambiente classi che sono anche frequentati dal maggior numero di eccellenze. Presidente, da donna, da mamma, la preoccupa il fenomeno delle gang femminili che sembra negli ultimi tempi sia particolarmente accentuato? È sempre presente così come è giusto che sia nelle piccole realtà ma anche nelle grandi città, quando in realtà finisce l'anno scolastico i ragazzi e i bambini sembrano un po' abbandonati a se stessi. Vuoi perché i genitori lavorano, vuoi perché molti non vanno in vacanza. Invece quanto è frequentata la scuola nel periodo estivo rispetto alla progettualità che mette in campo? Moltissimo. I laboratori sono pieni. Se lei stamattina guarda un po' nelle aule, le faccio vedere quanti bambini con gioia perché chiaramente, e voglio dire anche a volte si pensa, frequenta ancora la scuola chi non ha possibilità di uscire dal territorio. No, non è così. Noi abbiamo tutti i livelli sociali in classe perché chiaramente molti vanno in ferie ad agosto e quindi i bambini preferiscono. Ma sono i bambini stessi le mamme felici che questi bambini chiedono che di buon'ora si svegliano perché vengono anche con maggiore entusiasmo perché sanno che non c'è l'impegno dello studio serio ma è sotto forma ludica che si fa ogni attività e quindi sono felici.